Per il 2024 e il 2025 sono previsti aumenti per le tariffe dell'acqua in provincia di Arezzo. A denunciarlo è il Comitato Acqua Pubblica di Arezzo dopo la conferma arrivata dalla delibera del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Toscana. Nel 2022 però era stato annunciato un blocco delle tariffe a seguito del prolungamento della concessione al gestore di servizio. Purtroppo si è verificato quello che noi abbiamo sempre sostenuto ovvero che vengono fatti degli annunci per tranquillizzare i cittadini e gli utenti cosiddetti di tutta l'area che gestisce nuove acque dai sindaci vennero tranquillizzati che con la proroga ulteriore perché ne avevamo fatta una prima nel 2022 fu detto fino al 2029 abbiamo dato la proroga perché faranno nuovi investimenti maggiori di quelli che avevamo previsto quindi però tranquilli gli utenti non subiranno aumenti tariffari di qui al 2029. Questo era solo due anni fa. Adesso viene fuori che invece ci saranno due aumenti in fila uno dietro l'altro del 4% quindi quest'anno e il 4% l'anno prossimo che dice praticamente che si rimangiano la parola con i cittadini perché ci sono da adeguare delle tariffe. Le tariffe toscane dell'acqua se messe a confronto con quelle delle altre regioni appaiono decisamente più alte. Siamo stati i primi 24 anni fa ad avere le tariffe più alte di tutta la Toscana anche poi ci hanno seguito adesso non siamo più in testa assoluti ma siamo rispetto ad altre parti d'Italia fra l'altro anche dove hanno efficienze come le nostre in Lombardia pagano neanche la metà di quello che paghiamo noi pagare 140 euro e noi pagarne 600 insomma mi sembra all'anno o noi abbiamo molte difficoltà ad avere l'acqua? No perché siamo intrateveretano.